e questo era l'ultimo quadro preparatoci appunto dall'azienda appunto moda e arredo di Gallo Bruno io direi siamo giunti davvero quasi alla fine perché come vi anticipavo all'inizio è giunto il momento di estrarre anche il biglietto che permetterà a due persone di andare direttamente un weekend a Parigi presso un hotel centrale e il viaggio è offerto dall'agenzia Paganin ma prima di arrivare all'estrazione voglio ringraziare di persone voglio qui sul palco Michela titolare della fioreria Eden che si trova in via Roma 83 a Borgo Ricco buonasera Michela complimenti davvero per l'allestimento della scenografia floreale oltretutto hai curato anche gli accessori delle nostre modelle borsette fatte in fiore e tutto se uno venisse a trovarti qual è la tua passione? beh le cose sicuramente creative e più strane che si possono insomma realizzare con un po' di fantasia e creatività complimenti ancora Michela vi ricordo vi aspetta in via Roma 83 a Borgo Ricco invece come già sottolineavo prima la mia conciatura e la conciatura delle nostre modelle e i modelli è stata curata nel dettaglio dal salone dal CEO Parrucchieri & More che si trova in via della Pieve a Santiofemia Massimo e Andrea Massimo la gente starà dicendo cosa sta dicendo la Fabiola? perché Massimo lavora nel salone Rizza e Rocco come mai questo cambio di rotta questo cambio di nome? Buonasera a tutti allora il cambio di nome perché dicendo dall'arte di mio papà dal CEO da Alceo quindi dal CEO Parrucchieri & More che vuol dire è altro Parrucchieri e altro non vuoi anticipare niente su come è fatto il tuo salone perché ovviamente invito la gente ad andarlo a vedere non sono semplici tagli, semplici colori ma Massimo lavora, vi assicuro in un ambiente del tutto diverso da un normale salone di parrucchieri complimenti a Massimo complimenti ad Andrea anzi Massimo tu mi servi sai già cosa devi fare prendere l'urna grazie Andrea prendere l'urna che contiene i numeri io voglio ringraziare anche ovviamente tutte le vestitrici che hanno vestito i nostri modelli e le nostre modelle ringrazio Massimo ringrazio Marco per aver collaborato alla realizzazione di questa serata un grazie ad Enrico Pegoraro un grazie al comitato di Straelle io prima di concludere voglio anche ricordarvi altre dati importanti dove potrete vedere sfilare l'azienda appunto mode arredo di Gallo Bruno ci troveremo il 10 giugno a Salzano il 30 giugno in caso di pioggia primo luglio annuale il 15 di luglio a Piove di Sacco il 29 di luglio a Campigo e il 5 di agosto a Castelfranco e il 5 di agosto a Castelfranco Veneto io direi di chiamare sul palco Gabriele Nicola ed Emanuele vediamo se arrivano i nostri tre co-conduttori eccoli qui che arrivano e vorrei sul palco al mio fianco la signora Marina che ovviamente sarà lei a consegnare il biglietto che permetterà ai nostri due fortunati di andare direttamente a Parigi a trascorrere un bel weekend Marina tu sei buonasera innanzitutto sei rappresentanza dell'agenzia Paganin che si trova a Borgorico in via Roma 59 precisamente vicino al semaforo di Borgorico quindi proprio in centro sì esattamente proprio in centro cosa regaliamo ai due vincitori? allora regaliamo ai due vincitori un weekend a Parigi in un hotel centrale basta quindi basta dire buona fortuna incrociate le dita chi è il primo a pescare? perché Emanuele perché non è detto che al primo pescaggio la persona sia ancora presente vediamo Emanuele biglietto giallo sei capace di leggere il numero? ti suggeri? ah va bene allora Nicola però ti giri verso il pubblico quattrocentosessantaquattro bravissimo quattrocentosessantaquattro quattro sei quattro è presente la invito qui sul palco a salire dalla testa della passerella prego di salire dalla testa della passerella e nel frattempo io vorrei qui sul palco ovviamente da prima Gianna Catiuscian ed Iva ed Ivan titolari dell'azienda punto mode arredo di Gallo Bruno buonasera piacere Fabiola complimenti davvero anzi la signora Marina controllerà il biglietto con il numero se è corretto quattro sei quattro voi siete Stefano Ilaria e Ilaria volerete a Parigi c'eravate mai stati? no quindi ne valsa la pena venire questa sera la terza edizione di Polvere di Stelle Marina prego consegni il buono poi ovviamente vi darò l'indirizzo dell'agenzia quindi vi recherete lì e vi darò tutti i dettagli per viaggiare a Parigi complimenti davvero grazie ed ora signore e signori vi presento l'azienda punto moda e arredo di Gallo Bruno nelle vesti di Ivan Gianna e Catiuscia la passerella è tutta per voi assieme ai tre pargolotti Nicola Gabriele ed Emanuele ovviamente anche se non sono sul palco passerella voglio ringraziare anche nonna Speranza e Meridio che sono comodamente seduti grazie di cuore davvero a nome di tutta l'organizzazione io direi di chiamare sul palco tutti i nostri modelli e tutte le nostre modelle per brindare assieme tra l'altro coloro che hanno vinto il viaggio e che voleranno verso Parigi dimmi Ivan grazie davvero gentili grazie di cuore per me è sempre un piacere sfilare presentare per voi sorpresa tutti con un calice perché è giunto il momento davvero di concludere questa serata terza edizione di Polvere di Stelle voglio ringraziare ancora nuovamente il comitato di strelle ma è un ringraziamento di cuore perché merita veramente tantissimo ringrazio tutti voi che siete rimasti qua fino alla fine e siete stati davvero numerosi quest'anno ringrazio ancora Telecittà il pubblico che ci ha seguito fino a quest'ora signore e signori da Fabiola Dallabonna da tutti i modelli da tutta l'organizzazione vi auguro un buon proseguimento di serata e arrivederci nel 2008 ciao qualcuno che sappia stappare la bottiglia amore amore fra i carici più caldi baci avrà fra i carici grazie a tutti 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 grazie a tutti